Pane 100% di pasta madre, certificato come tale da due università, realizzato grazie alla tradizione artigianale perché i veri artigiani usano le mani, ma anche con macchinari altamente all'avanguardia. È il pane 4.0 di Grande Impero, l'azienda con sede a Roma che effettua oltre 2200 consegne in sei regioni nel centro e nord Italia, in più di 1850 punti vendita. Una storia tutta italiana, per un pane solo acqua, farina e sale e una produzione annua di oltre 18.000 tonnellate. Antonella Rizzato, CEO Grande Impero. Grande Impero ha dei pilastri fondamentali che sono etica, dinamismo, rispetto, inclusione. Da quando è nato siamo sempre stati molto attenti alla ricerca e allo sviluppo, anche quando eravamo più piccini e adesso, malamana che cresciamo, sempre più attenti. Tant'è che potremmo dire che oggi Grande Impero è un po' il pane 4.0, cioè manteniamo la tradizione, il vero pane, quello di una volta senza lievito chimico, ma solo e esclusivamente di pasta madre, fatto con quella che è ancora la tradizione artigianale, quindi con le mani, ma con dei macchinari altamente all'avanguardia. Possiamo dire unici in Europa se non al mondo. Pane è leader nel settore, Grande Impero è molto attiva in difesa della categoria e molto attenta al sociale. Oggi contiamo 27 etnie diverse in questa azienda e è veramente un orgoglio per noi a livello personale, ma anche professionale, perché si può fare azienda in modo etico e pensando anche al prossimo. D'altra parte facciamo pane, che è l'alimento principe, l'alimento simbolico per eccellenza per tutte le religioni, per tutte le culture, per tutte le filosofie. Il 2022 è stato un anno molto impegnativo che si è chiuso però in positivo e il 2023 presenta ora nuove sfide. Aver chiuso oggi in positivo, aver fatto degli investimenti importanti, aver fatto assunzioni, aver chiuso in positivo a doppia cifra, è veramente per me che rappresento questa azienda un orgoglio e un onore poterla appunto rappresentare. Si apre un 2023, un 2023 con tanti obiettivi, un 2023 che vede sicuramente delle sfide importanti, ma come sempre con l'ottimismo, la tenacia e un forte gruppo all'interno di un grande gruppo che non si è mai arreso e che ama le sfide.